musica Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'unica serie di gt online in cui non si fanno sprechi ma omicidi se ne fanno adesso e anche vendette mi hai rovinato la intro non morire non morire mai perfetto è caduto anche di testa ma non è morto ah è andato in casa eh meglio per te per oggi mi sento magnanimo quindi direi di andare a fare lista nera avevo già la destinazione madonna quanti sono ma non c'è più lista nera è sparita ah allora andrò a prendere la taglia di questo è tutta colpa tua sai maledetto non hai fatto avviare lista nera adesso ti distruggo ti disintegro ah tiger la tigre la tigre morirà ah è morta la tigre è morta mille dollari aumento di rango incredibile ma non salire di qua che cavolo fai ehi ehi che fai qui è anche colpa tua sai è anche colpa tua se non sei avviata lista nera ragazzi io non voglio fare nulla voglio solo entrare nel mio ufficio madonna la vigilante abbiamo ampliato il nostro arsenale il buzzardo posso acquistare no è rottamento della mia macchina maledetto siccome è andato via me la prenderò con voi oh mio dio c'è uno con la kuruma madonna uno l'ho ucciso ma quello con la kuruma non lo ucciderò mai andiamo via no no polizia io non ho fatto niente di male niente di male ho fatto assolutamente nulla bastardo oh devi morire devi morire oh perfetto no non è questo con la kuruma perfetto anche lui muore questo con la kuruma invece no no tu puoi vivere tu puoi vivere basta sta fe madonna non te la voglio distruggere non voglio pagare io scappo via ciao ciao no 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 non tirarmi sotto mai nella vita ancora ci prova ma oh basta madonna adesso salgo qui salgo qui ah ah è tutta colpa tua di nuovo di nuovo si devi morire perfetto detto che sto a evolvere oppino in una maniera pazzesca muori ok ora posso andare al mio ufficio per favore ci sarà un bel po' di gente che ce l'avrà con me ma tentiamo lo stesso un recupero non puoi cedere quando si ricerca io non sono ricercato cosa ti fa pensare che io sia ricercato ti prego tu che mi guardi dalla sua fascia alta fascia alta fascia bassa una turismo R fascia bassa ma vi sembra legale questa cosa? qua ci serve il meme wait that's illegal esci dal pieno terra perché siamo barboni ragazzi come potete vedere in questo episodio ho fatto talmente tanti soldi che mi sono modificato completamente l'Italy gtp l'ho fatta rossa e ci ho messo anche i neon ma che ah si scusate mi ero dimenticato questo è un problema di fabbrica a volte mi caccia da sola l'auto però qua c'è un problema essendo che non posso usare la mia auto devo rubarne una quello già si è schiantato appena ho sparato questo si è schiantato guarda si ma c'è un muro non puoi uscire da qui non so se lo sai guarda aspetta devo fare una cosa scusatemi ma questa donnina è entusiasta deve morire oh che bello fermati fermati no no poi ci vuole il meme di cj no tranquillo non riesco assolutamente cioè ti sto a raggiungere con una 9 F e vabbè ma vaffanculo eh ma che fa questo va in contromano si si no tranquillo devi fermarti no se ti devi fermare tantissimo ti devi fermare ti distruggo adesso ti distruggo in una maniera che non hai mai visto nella vita allora tu ti devi fermare non hai capito non hai capito proprio un cazzo non mirare di là non hai capito devi fermarti oh perfetto uh uh mamma mia oh 29 dollari grazie mille amico ah ho vinto rip tu mamma mia che driftata e sono anche arrivato devo fare il danno finale ovviamente come al solito mettici tutto il tempo che vuoi tanto non stai semplicemente caricando il magazzino veicoli no ma sta zitta ti rendi conto la black fine di fascia media la turismo di fascia bassa ciao sai che su gt online sto esportando un veicolo di fascia vanille ossia di fascia bassa attacco un fascia madonna c'è qualcuno che si sta avvicinando qui e stavo pure per schiantarmi addosso ad un palo ma però piotta sta macchina saltella pura in realtà ho sbagliato strada fate conto che io non ho un oppressor mamma mia è qua si mette male madonna fermo fermo muori muori ok perfetto andiamo tanto non puoi agganciarmi stupido stupido una taglia di 9000 è stata piazzata su manuel perfetto consegniamo sempre che questo qui non venga a rompere le palle poi andiamocela a prendere ciao qua perfetto ovviamente sbattere alla fine era d'obbligo fermati in nome della porca puttana no no la prendo io la taglia non la prende quello la prendo io perfetto l'ho presa voleva prenderla lui oh mio dio ora mi uccide però questo mamma mia mi uccide tantissimo ma che ca è fortuna che non mi può agganciare se non sto in macchina ma quello a cui ho preso la taglia prima ne ha ripresa un'altra ma che continua a rubare veicoli più sfigato di foxers senza offesa foxers sai che è con affetto danno criminale avrei iniziato ma cosa sono appena entrato in sessione mancano 30 secondi porca puttana aspetta un po' aspetta un po' questo lo uccidiamo maledetto e mori perfetto 5000 dollari vabbò sono entrato in sessione mi hanno dato 5000 dollari praticamente sai di chi è la colpa se non ho vinto è colpa tua è anche colpa di quella macchina no no non scapperai mica non scapperai mica sai e dove vuoi andare tu con la moto so che è colpa tua so che è colpa tua se non ho vinto l'evento ah si eh non vuoi fermarti va bene ti fermo io oh di madonna questo qui è uscito tutto figo ho detto ma questo lo kill lo credo di fare il furbo ma invece sei morto babbo facciamo un bel recupero recupero ti prego qualcosa di fascia alta dai ma perché fascia bassa perché devi essere un pezzo di merda di gioco oh è spawnato qui sotto perfetto fermati fermati oh in pausa ottimo grazie della taglia e vabbè grazie anche a te di essere stata lì auto sì ma mille dollari e allora dillo che sei stronzo fascia media babbo meglio di niente sì ma no fino a lago zancuto per un azzentorno dai ci inseriamo come l'al l'altra volta inserimento meno perfetto dell'altra volta ma va bene lo stesso sì ho capito che ho ucciso il ceo rivale puoi anche toglierle la notifica ehi notifica ti puoi togliere e lei sta a dire no non penso che lo farò salve ragazzi bella macchina sapete perché è bella soprattutto perché è mia ciao 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 no 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 fermo fermo non ne parliamo va bene ma ti rendi conto ho cambiato sessione e ancora sta lì con la scritta oddio forse si vuole vendicare per tutte le notifiche che sono comparse in cui stavo chillando gente uh la valigetta di possesso vabbè resteremo con la notifica lì perché dobbiamo andare a prendere la valigetta uno due tre e là valigetta alla caccia della valigetta di possesso forse qui dentro vediamo di sbiego eccola questa è mia e non sembra esserci nessuno che vuole il contrario perfetto io aspetto qui oh porco demonio attenzione ci riprova sì sì sono proprio lì tranquillo non hai pensato magari un'idea un po' più intelligente ossia scendere che vuole questo vuoi la mia valigetta eh vuoi anche tu la mia valigetta non l'avrai guarda che si schianta ma si schianta tantissimo si schianta anzi eh no sta atterrando infatti guardali 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 quanto vogliono prende la valigetta devi morire perfetto uno edu madonna madonna sì sì guarda per quanti secondi l'atterrai ma vai a un record un record per la persona che ha tenuto meno una valigetta su gt online ah è arrivato l'altro ah vuole portarlo via con l'elicottero devi morire devi morire quello è esploso da solo bello l'aereo viola figo mamma mia che schifezza oh cazzo oh cazzo questo sta qui allora aspetta aspetta ci sta anche questo vieni 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 sì sì puoi venire tranquillamente oh non è morire oh oh ma devi morire allora bastardo oh completo da combattimento ma ci siamo dai dietro al muro perfetto oh perfetto gli snack sono serviti a qualcosa stavolta ok tu muori madonna 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 e andiamo via muoviti beh ragazzi io l'ho tenuta per 4 minuti e 20 mancano 4 minuti è impossibile che voi vinciate sono qui ad aspettarvi attenzione attenzione sì 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 oh madonna stava quello lì col braccetto fuori col c4 sei molto spiritoso sai che dovresti fare il comico guarda questo dove si è andato in buca guarda dove si è andato in buca ma ti rendi conto bastardo parapere peraparam pararararam pam pam dai dai sì 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 adesso la indovinate proprio ah le granate non mi prendono mi dispiace oh cazzo ha ucciso il suo compagno pensa te sì sì funzionerà proprio tranquillo che scemo ma che fa oh uno e due 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 dai 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 il secondo aspetta dai esco io ma che attraverso il coso oh porca troia sì ma ragazzi non è cumulativo non è cumulativa la cosa io non so perché si ostinino così tanto tanto avete perso se ne vanno pure ma ti rendi conto tanto avete perso boh ma contenti voi ho 12.000 dollari sapete chi li ha guadagnati questi 12.000 dollari io non voi io il sottoscritto scusate non sento bene chi è che li ha guadagnati questi soldi io sì 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 tranquillo altri 2.000 dollari per essermi comportato bene ma io sono proprio onestissimo sono un giocatore mamma mia quanto onesto tanto gentile e tanto onesto pare il giocatore mio quando gli altri saluta un buzzardo che fa ma è un npc sì sì mi sa di sì ma hanno chiamato l'elicottero di supporto ma seri no no ditemi che state scherzando per favore ditemi che state scherzando ha ho ucciso il pilota ha ha riperoni oh cazzo ma ci sono tre giocatori ma che è sta cosa oh ma come mai stanno qui oh buono 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 dove vai maledetto ah beh scappa ok vai via vai via ah hanno già fatto tutto loro beh io non posso che essere grato per questa cosa oh cazzo mi stanno a sparare madonna vai via no mi stai inseguendo no non mi devi seguire non mi devi seguire ti no ti devo uccidere va bene ti uccido allora l'hai voluto tu l'hai voluto tu e vabbè mi danneggi pure la macchina oh non salire sulla moto brutto rincoglionito madonna uno e due stardo adesso muori muori tantissimo devi morire tanto oh questo pure oh cazzo aspetta 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 e là oh che esatto che esatto eh attenzione stanno arrivando ok e vabbè oh vieni 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 si si bravo bravissimo ok oh che fai oh madonna con lanciamissili pure hai capito e muori venite venite ok oh dove andate ehi dove andate ah tutti e due oh finalmente sto veicolo di merda è esploso no non è esploso madonna c'è questo veicolo che fa che è la sirena nel caso non lo sapeste ma una sirena strana mi sta rompe il cazzo in una maniera che non avete idea ma andò vai muori allora il veicolo non me ne frega niente io devo distruggere quel veicolo devo distruggere quel veicolo finalmente oh ora poi oh non mi ammazza perfetto ciao me ne posso mettere dicevo mi posso mettere in passiva col veicolo che faceva mi sa rompe il cazzo bene e ora posso acquistare ciò che avevo in mente di acquistare ossia la clubhouse poverissima uh è scontata allora questa qui a quanto sta perfetto il nome è verde perché siamo ricchissimi qui e acquista ora siamo ufficialmente dei motociclisti vedete abbiamo anche il casco da motociclisti per questo video direi che è tutto vi ricordo che ogni martedì alle 16 esce un nuovo episodio di vita da poveri vi ringrazio per avermi seguito finora noi ci rivediamo alla prossima